L'8 agosto del 91, il giorno in cui la nave Vlora, proveniente da Durazzo con a bordo 20.000 migranti, approdò a Bari, in termini di valore storico per la Puglia, è paragonabile alla caduta del muro di Berlino. Con quello sbarco e soprattutto con l'accoglienza di quei disperati in fuga dalla fame, la Puglia batteva i muri delle ostilità e innalzava la casa dell'accoglienza e della speranza. Con questo messaggio il sindaco di Bari, Michele Emiliano, ha voluto dare il benvenuto al presidente della Repubblica Albanese, Bahamir Topi, arrivato a Bari da Durazzo, sulla nave adriatica, ripercorrendo simbolicamente lo stesso viaggio dei 20.000 suoi connazionali che arrivarono 20 anni fa, per consegnare oggi al capoluogo pugliese la medaglia della gratitudine. Già, il popolo albanese ringrazia per quell'evento che cambiò la vita a molte migliaia di loro. Dal canto suo, Emiliano, ha voluto dedicare la giornata ad Enrico Dalfino, primo cittadino in quel caldo agosto del 91 che ebbe l'intuizione e a tratti anche il coraggio di andare fino in fondo nell'ascoltare la sua coscienza di non adeguarsi a scelte precostituite. Alla cerimonia ufficiale era presente anche il presidente della regione Puglia, Michivendola, che nel dare il benvenuto a Topi ha parlato di questa festa come della festa dell'accoglienza, ma non ha potuto fare a meno di ricordare le tante vittime che ancora l'Adriatico ci restituisce ogni giorno, trasformandosi in un grande cimitero all'aperto. Con l'arrivo a Bari del presidente albanese, i già stretti legami tra Puglia e Albania si rinsaldano e lo sbarco della Vlora non fu che lo spartiacque per la storia della città. Fu proprio nel 91 che Bari si dotò per la prima volta di uno statuto comunale, in cui il capoluogo pugliese si definiva città aperta e dunque città dell'accoglienza.